Buona giornata a tutti voi che siete sintonizzati su Fano TV. Questa mattina leggeremo insieme i giornali, inizieremo così la giornata, a partire dal resto del Carlino e poi al Corriere Adriatico. Intanto, come sempre, vediamo chi è il Santo del Giorno, per cui potremmo fare gli auguri a tutti coloro che portano il suo nome. E credo che siano tanti, perché tanti si chiamano Andrea, Sant'Andrea Apostolo, è questo il santo che si festeggia oggi. Sant'Andrea, pescatore di Bezzaida, compagno di Gesù, fratello di Pietro, fu apostolo in mezzo ai pagani. Girò tantissimo nella geografia antica. Fu apostolo, predicò in Frigia, Epiro, Itracia e fu perseguitato, in modo particolare, dal console romano Egea. Morì crocifisso nella famosa croce a Dix e fu un tormento veramente drammatico, perché Sant'Andrea visse ancora per due giorni affisso alla sua croce e poi morì. A lui si imputano tanti, tanti miracoli. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Vediamo come la situazione nella nostra regione è ancora in evoluzione. Il tempo comunque è in deciso miglioramento. Questa mattina su Fano c'era un bellissimo cielo stellato. Il tempo è in deciso miglioramento, dicevo, con un cielo sereno su tutta la regione. Temperature minime in calo, con gelate diffuse, nell'entroterra. Quando il cielo è sereno, ovviamente, la temperatura scende. E così, diamo un'occhiata subito alla prima pagina del resto del Carlino. Vediamo che il titolo principale è dedicato ad una sentenza del Tribunale. Pestaggio alla Rocca Malatestiana. Le prime condanne. Due anni e otto mesi al Magribino, che a Fano picchiò un ragazzo con le unghie a tinte. Pena anche per il suo complice. Insomma, sono stati puniti quei due ragazzi che hanno aggredito altri due. Erano due pesaresi i ragazzi che sono stati aggrediti, le vittime di questa situazione. Ed erano stati aggrediti semplicemente perché avevano le unghie smaltate e uno aveva dei capelli biondi, dei capelli tinti. Insomma, una violenza di genere, in questo caso, così perpetuata semplicemente per divertimento. Ma ora la punizione è arrivata. La fotonotizia pubblicata dal resto del Carlino riguarda le vaccinazioni. Ora le vaccinazioni accelerano. In sintonia con il numero aumentato di coloro che vanno a vaccinarsi, troppe file. L'Azur aumenta le sedute nel calendario. Poi vediamo anche chi aspira ad andare a vacanza e chi ci va. Magari nel weekend. Sci, si parte, pochi centimetri di neve, bastano a scaldare le piste del pre-appennino. E poi ancora tante richieste di tamponi. Ora basta il test rapido per dirsi positivi. E c'è una protesta a Vallefoglia in 60.000 senza guardia medica. Un disservizio veramente importante. Per quanto riguarda lo sport, nella VL Lamb, i tifosi ci credono. Un americano che vale, perché si fa veramente valere. E poi una serata di Valentino Rossi al furlo. Ebbene, quando Valentino Rossi va in un ristorante, va in un ritrovo, è sempre un evento. E attira tante, tante persone. E il concerto dei Maneskin è già un successo. Bruciati 6.000 biglietti in pochissimi giorni. Apriamo il giornale. Diamo un'occhiata alle notizie delle vaccinazioni. Prime e terze dosi col turbo. Si rafforzano gli hub. In aumento la media delle somministrazioni. L'aria vasta, uno in grana alla quarta. Previsioni che riguardano più sedute. Un aumento per quanto riguarda le sedute. L'obiettivo è raggiungere le 1.200 vaccinazioni al giorno. Non deve più accadere, come è accaduto purtroppo, che la gente che vuole vaccinarsi venga mandata via. È successo domenica scorsa a Pesaro. L'aria vasta, uno ha ingranato la quarta con l'obiettivo, dopo mesi di stanca e sotto l'impulso del super green pass, di tornare a ritmi di 1.200 vaccinazioni al giorno su Pesaro e 800 per Fano e Urbino. Al momento i dati mostrano su Pesaro una media giornaliera di quasi 500 somministrazioni complessive che racchiudono le prime, le seconde e anche le terze dosi. Domenica lì per Rossini sono stati somministrati 565 vaccini. Giriamo ancora le pagine sul resto del Carlino. Speriamo di salvarci con le tombolate. Sono gli albergatori che organizzano manifestazioni. Sono pochi, a dire la verità, perché la situazione è ancora molto incerta. La tombola è un po' in gioco di stagione. Comunque la tombola attira gente e attira anche assembramenti. Quindi occorre prestare molta attenzione nell'organizzare queste iniziative. L'hotel Flaminio di Pesaro sembra che sia la sola struttura ricettiva della città che ha un grande salone per feste e convegni e quindi può organizzare con il dovuto distanziamento queste iniziative. Per quanto riguarda le altre feste invece c'è un punto interrogativo. Siamo ancora con il punto interrogativo, dicono gli albergatori. Molto dipenderà dalla evoluzione dell'epidemia, della pandemia. Grazie delle scuse, ma non dimenticano. Sono le parole di Luigi, uno dei due ragazzi aggredito alla rocca malatestiana di Fano per le unghie tinte, dopo la condanna a carico di uno dei picchiatori. Per lui, il picchiatore, due anni e otto mesi di pena. Il pestaggio della rocca malatestiana a Fano accadde l'otto maggio scorso ai danni di Luigi Lupini e Simone Pasquino, due amici diciottenni pesaresi presi di mira da un branco di ragazzi, tra cui diversi minorenni, per via dello smalto alle unghie e del ciuffo biondo sfoggiate da Lupini. La pena più alta, due anni e otto mesi, è andata a Rida Buzidi, un ventenne, accusato di avere picchiato Pasquino, fratturandogli, anzi, il naso e un dito. Quest'ultimo aveva difeso Lupini, il ragazzo con le unghie tinte. Un anno e otto mesi, la condanna è inflitta invece ad Ashraf Alcairi, e il marocchino, accusato solo della rapina e gli avevano rubato anche degli oggetti. Questa vicenda, scusate, è un dramma per tutti. È il commento un po' dell'avvocato Amare Lupizza, legale di Lupini. Anche gli imputati sono giovani, ma questo è un fatto di una gravità estrema, ha dichiarato due ragazzi buoni, inermi, sconosciuti, come Lupini e Pasquini, aggrediti in modo brutale e senza motivo. Così solo per divertimento, forse per traccotanza. Ex manicomio, la regione si dia da fare. Si parla dell'ex manicomio di Pesolo, lungo il corso. Un grande complesso che deve ancora rivalutato per trovarvi una nuova funzione. Il consigliere Andrea Biancani, il consigliere regionale, sollecita alla Giunta a reperire i finanziamenti per realizzare il poliambulatorio principale di Pesaro, una struttura di cui la città ha un estremo bisogno. Occorrono circa 10 milioni per portarci gli uffici dell'Asu, che ora sono in via 11 febbraio. E vedete in quali condizioni è ridotto l'interno, appunto, dell'ex manicomio San Benedetto, completamente faticente. Acqua in strada, protestano i genitori della Don Milani. Aspettiamo l'uscita dei figli in un parcheggio che, in caso di pioggia, diventa un lago impraticabile. Una infrastruttura che è, insomma, da qualificare, perché poi, quando c'è maltempo, la situazione si complica sempre di più. E questo è un problema, invece, quello evidenziato a pian del bruscolo, che mette in difficoltà parecchie famiglie. Sono in 60 mila senza guardia medica, ma fino a quando, è il punto interrogativo che esprime il resto del Carlino nel titolo di questo articolo, la rabbia dei residenti che pena quella coppia con un bambino piccolo avvolto nella coperta davanti alla sede chiusa. Qui di notte non c'è nessuno, eppure gli anziani hanno bisogno di aiuto. E sono veramente tanti, e la protesta. Insomma, una protesta che dimostra come l'organico del settore, della medicina di base, sia insufficiente a rispondere alle esigenze. Ed è questo il gradino, il primo gradino. Il gradino forse è più necessario per essere rinforzato di tutta l'assistenza sanitaria, di tutto il sistema sanitario nazionale. Occorre dunque provvedere. E vediamo ora cosa accade a Fano. Vediamo che in via Pisacane, sarebbe un tratto della Statale 16, che va verso Ponte Metauro, sorge un nuovo polo commerciale. Arriva la Copp e trasforma tutta la viabilità. perché, come opere complementari a questo progetto, ci sono diverse iniziative che riguardano le infrastrutture. I lavori si concluderanno entro l'estate prossima, quella del 2022. Si realizzerà una rotatoria, e poi le opere di urbanizzazione prevedono la realizzazione di sottopassi ciclopedonali e un tratto di rete fognaria. C'è anche una grande attesa per le assunzioni di questo nuovo ipermercato, che si aggiunge ad un altro ipermercato, quello che è stato realizzato un pochino prima, sempre in via Pisacane, realizzato dall'Eurospin, con un grande parcheggio ed un tratto di pista ciclopedonale che va verso la stezione, oltre la rotatoria che dirige il traffico tra l'incrocio tra la Statale e via Vittorio Menito, la via dell'ospedale. Dunque, i lavori si concluderanno, questi della Copp, entro l'estate del 2022. Causa persa, il Cantinone costa al Comune 80 mila euro. Due locali storici, protagonisti ieri in Consiglio Comunale a Fano, per un debito fuori bilancio e per un piano di recupero, ovvero il piano di recupero riguarda l'ex Nuova Casaccia, che ospiterà quattro alloggi, verrà trasformata appunto in una residenza abitativa, mentre per quanto riguarda il Cantinone, il Comune è stato condannato a pagare 80 mila euro di spese legali. Questo è uno dei quattro debiti fuori bilancio che sono stati inseriti ieri pomeriggio, ieri sera, nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, a seguito di sentenze del Tribunale di Pesaro e della Corte dei Conti, oltre che della Corte di Appello di Ancona. Tra questi appunto spiccano gli 80 mila euro che il Comune dovrà pagare per le spese legali alle assicurazioni, in seguito ad un contenzioso che lo ha contrapposto al titolare dell'ex ristorante Cantinone nel periodo 2005-2008, un'attività regressa che però torna in conto proprio oggi. Altro comitato, altre firme, tocca a Piazza Marcolini, i residenti chiedono di salvaguardare alberi e parcheggi, non abbiamo bisogno di altri salotti, dicono, ci servono spazi dove lasciare le automobili. Sempre meno parcheggi in centro storico, ormai questi diventano una necessità di cui si perde nel nulla, perché non ci sono più posti disponibili. Il Comune cerca di qualificare le piazze con piste ciclabili, con pianchine, con alberi, con passaggi pedonali, ma in realtà le macchine non si sa più dove metterle e i residenti, più che le panchine, vorrebbero i parcheggi. Insomma, questo è il senso di questo articolo. Poi vediamo un'evoluzione dell'atto vandalico compiuto ai danni del presepe del Pincio. I vandali della Natività hanno le ore contate, lo ha dichiarato l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli, per quanto riguarda i danni provocati alle statue di questo presepe realizzato dai carristi fanesi. Ci sono le telecamere e quindi attraverso le immagini registrate sarà possibile risalire alla identità di chi ha compiuto questo gesto. Erano le tre di notte e si vedono delle figure muoversi attorno la capanna del presepe del Pincio. Una commissione di indagine per far luce sugli allagamenti è la richiesta del capogruppo dell'opposizione Bonacorsi del Consiglio Comunale di Mondolfo dopo i fatti del 16 novembre. Si è fatto tutto il necessario dice appunto Bonacorsi e questo è emerso dal Consiglio Comunale straordinario e monotematico che ha previsto l'istituzione di una commissione di indagine intorno ai fatti che sono accaduti a Marotta. E poi vediamo che per quanto riguarda invece l'episodio di cronaca che è stato compiuto che è emerso dal MIU di Marotta tra sabato e domenica è stato condannato ai domiciliari il 19enne romano che insomma è andato in escandescenze tra sabato e domenica si è scagliato contro i carabinieri ferendone addirittura quattro. A Urbino c'è la visita della ministra delle pari opportunità Elena Bonetti ha compiuto una visita all'Ateneo in Ateneo si è discusso della famiglia della composizione della famiglia e la Bonetti ha dichiarato che le università sono un presidio fondamentale ma anche un luogo di innovazione per quanto riguarda i rapporti e ovviamente si è trattato anche il tema del rapporto uomo e donna e delle violenze che spesso le donne sono costrette a subire ma c'era anche un altro problema quello dell'investimento sul lavoro femminile per far entrare le donne nel pianeta dell'impiego appunto è il senso di questo sommarietto chiesto un contributo agli eredi per il cimitero di San Bernardino si tratta di un contributo di 135 euro in alcune aree la situazione dei loculi è veramente in degrado in deterioramento e quindi i parenti appunto dei difunti sono invitati a contribuire sci Catria e Nerone Carpegna pronti a partire nevica sui nostri monti e dunque gli addetti ai lavori sono già attrezzati per accogliere gli amanti dello sport bianco si preparano anche le piste le temperature saranno decisive poi per mantenere la coltre perché ha nevicato insomma poco lo strato è molto basso se poi arriva un po' di caldo ci scioglie subito e poi vi vi do un reso conto anche della visita di Valentino Rossi alla alla ginestra del furlo di Acqualagna vale e big dei motori all'assalto del tartufo ebbene in questo locale si dà un buon tartufo e quindi anche Valentino Rossi è stato seduto da questo piatto e a questo punto passiamo al Corriere Adriatico dove vediamo che i vaccini vanno il sistema dei vaccini va un po' in tilt è il titolo che appare appunto in prima pagina sul Corriere altri utenti respinti ieri a Lab di Muraglia per i non prenotati a Pesaro pronte 350 dosi giornaliere l'articolo sul Corriere Adriatico è un po' diverso da quello che è apparso sul resto del Carlino il resto del Carlino lo fa un po' più ottimista il Corriere un po' più critico nelle Marche protetti dal Siero ma in ritardo sui richiami Saltamartini dice avanti con questi medici insomma per rafforzare il personale comunque entrambi evidenziano come ci siano file come le richieste dei vaccini siano in aumento voglio incontrare Greta per avere il suo perdono è il titolo alla fotonotizia in centro pagina chi è che dice questo lo dice il molestatore che è stato denunciato dalla giornalista tv in quanto le ha dato una manata nel sedere ed è di Chiaravalle è un marchigiano vediamo un attimo poi l'interno a Pesaro pronto soccorso lavori a rilento per l'accesso covid un articolo di Lorenzo Furlani a Mondolfo un ambulante ucciso da un infarto e sciocca al mercato è morto appunto per cause naturali ma quando uno muore così di fronte a tutti l'evento è drammatico Urbino la ministra Bonetti esalta le donne attive alla università e poi anche il Corriere Adriatico si occupa del pestaggio per lo smalto alla Rocca Malatestiana l'aggressione ai due ragazzi al Pincio di Fano in realtà era alla Rocca il giudice commina 32 e 20 mesi di reclusione apriamo la pagina e vediamo subito le scuse che il molestatore ha presentato alla giornalista che è stata così toccata nelle parti intime chiedo scusa vorrei incontrare Greta per avere il suo perdono ma non meritavo questa gogna ha dichiarato si tratta di Andrea Serrani ed è un ristoratore di Chiaravalle è il tifoso che ha palpeggiato in diretta la cronista di Toscana TV ho una figlia piccola dice temo le conseguenze che potrei subire per questo errore è stata una semplice gogliardata ma spesso le gogliardate in questo caso assumono un valore simbolico per il mancato rispetto per quanto riguarda le donne insomma un atteggiamento che assume un valore diverso da quello che magari chi lo ha fatto chi lo ha realizzato non pensa alle conseguenze che può determinare dalla Grecia non è da una vita tra alti e bassi prima dell'ultima svirgolata qualche vecchia noia con la giustizia il nuovo locale ecco chi è Serrani questo è un po' un quadro per quanto riguarda la vita e il personaggio appunto che è il stato protagonista di questa vicenda giriamo ancora la pagina sul Corriere Adriatico e passiamo al problema degli hub per le vaccinazioni sistema ancora in tilt ora ai non prenotati sono riservati 350 dosi queste sono le disponibilità giornaliere a Pesaro tra punto ospedaliero ed ex Risto anche ieri a Muraglia alcuni utenti sono stati respinti è stato detto loro di ritornare nei prossimi giorni ma a dicembre saranno fruibili 22.000 vaccini insomma è una quantità si spera sufficiente per far fronte alle richieste per la somministrazione ed esordio restano liberi solo 400 posti e diamo un'occhiata anche un po' a questa tabella oltre 19.000 posti nei punti vaccinali per terze dosi di cui occupati oltre 10.000 liberi quasi 9.000 2.300 circa i posti per le seconde dosi di cui 1.000 circa ancora liberi e 600 posti per prime dosi di cui ancora 440 liberi insomma c'è ancora posto però bisogna prenotare e invece sono preoccupati gli albergatori per quanto riguarda l'aumento delle disposizioni anti-covid che impongono il green pass anche negli alberghi green pass negli alberghi la convenzione con Aspes agevolazioni per i clienti il presidente di APA disdette però per i contagi insomma la gente non viaggia più ne parlano Paolo Costantini e Luciano Cecchini che sono appunto i riferenti della categoria Cavalcaferrovia il caos l'abbiamo voluto evitare parla così l'assessore Belloni che giustifica il rallentamento subito dalla procedura dei lavori si parla del ponte dei Capuccini appalto da 3 milioni nel 2022 Fratelli d'Italia e Lega protestano non c'è ancora il termine finale ed è un po' come la fabbrica di San Pietro questa ristrutturazione del ponte nuovo pronto soccorso i lavori vanno a rilento l'opera si parla del pronto soccorso di Pesaro l'opera ha subito anche un fermo il consorzio renova dice solo pochi giorni ma si realizza l'ingresso separato per il covid impiantisti ieri attivi nel fabbricato due ingressi nell'ospedale di Pesaro uno per quanto riguarda i malati di covid che così sono separati dagli altri degenti e l'altro per quanto riguarda coloro che sono effetti dalle malattie dalle altre malattie o dagli infortuni e quindi hanno bisogno di un di un'assistenza di carattere medico-chirurgica serpeggia la preoccupazione a San Salvatore per il rallentamento delle cantiere del pronto soccorso finalizzato da allestire a un ingresso diversificato dei pazienti ma anche la situazione di Fano non è agevole ci sono problemi e le evidenzia proprio una signora che proviene da Mondolfo il disagio di un'anziana affetta dalla polmonite il racconto delle difficoltà nella struttura di Fano priva del ricovero a Pesaro picchiato per l'amico con lo smalto condannati due giovani del branco pestaggio e rapina a Fano prime sentenze due anni e otto mesi per Rida Buzidi e venti mesi ad Acraf al Keir e sono le condanne che si sono avute per quanto riguarda questo atto di cui abbiamo ampiamente parlato questa mattina a Vallefoglia strada chiusa anzi no polemica il sindaco non ne sapeva nulla si tratta di una strada una strada che vediamo va da la strada di Colbordolo che ieri che da ieri fino al 17 dicembre dalle poste fino alla chiesa del monte i cittadini devono percorrere si tratta di una strada che si diceva che era chiusa poi si dice no la strada non era chiusa comunque bisogna che poi la si deve chiudere insomma un problema il sindaco ha detto è tutto falso la situazione non è mutata è sempre come prima poi si vedrà veniamo ora alla pagina di Fano vediamo come ieri si è verificato un incendio al Vittoria Colonna danno fuoco all'ex convitto Colonna un incendio di carattere doroso abusivi nel grande edificio dell'Inps l'allarme per una colonna di fumo che è stata notata di un passante sono arrivati i vigili del fuoco e per fortuna la loro opera è efficace e molto molto rapida ha impedito che le fiamme si estendessero al resto del grande complesso che si estende per 13 mila metri quadri in un intero isolato gli abusivi entrano nelle recinzioni che vengono forzate qui vediamo il camion dei vigili del fuoco e qui un interno che viene devastato dal fumo e dal fuoco che è stato appiccato e poi vediamo ancora sulla pagina di Fano scattano tre ordinanze anti-smog l'assessore all'ambiente Brunori tuteliamo l'ambiente i vincoli riguardano automezzi forni professionali e stufe domestiche il traffico stradale da ieri è stato interrotto alle auto diesel 0, 1, 2 e 3 immatricolate entro il primo gennaio del 2006 e quelle alimentate a benzina 0, 1 immatricolate entro il primo gennaio del 97 poi ci sono anche disposizioni per le attività industriali e soprattutto per coloro che usano i forni a legna siamo ormai in conclusione vediamo una notizia di Fossombrone tentativo di incendio e danni le case nel mirino dei tempisti la pioggia ha soffocato l'azione dei malintenzionati altri episodi contro anziani è stato dato fuoco ad uno zerbino posto all'ingresso di un'abitazione per fortuna la pioggia ha spenso l'acqua e vediamo anche una notizia che da Senigallia in farmacia in coda per il tampone scatta il blitz dei carabinieri del NAS Fratelli d'Italia difende l'assessore Bizzarri criticata per la frase su Facebook sulle minoranze chiuse in casa la frase incriminata era questa dove si è mi è visto un paese in cui una minoranza viene tenuta chiuse in casa con gli altri che la insultano nella Germania del 34 e quest'ultima frase nella Germania del 34 ha suscitato una ridda di polemica questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno alle 20.30 sul notiziario di Fano TV a risentirci e vi dà appuntamento